C'è un elemento in più che ha detto sia il direttore che risulta anche dalla stampa locale oggi che ci sarebbe una possibilità che ci sia anche un ricatto dietro a questa vicenda ha piazzato la sede di capere molto probabilmente l'ha fatto anche come un presunto tentativo di estorsione nei confronti delle persone coinvolte in questa vicenda o anche se qualcuno dice di vendetta per vendette trasversali all'interno dell'ospedale ovviamente senterebbe una luce ancora più sinistra rispetto a questa vicenda in quanto che passeremo da una cosa depretabile a una vicenda ancora più inquietante quello che però deve fare riflettere tutti è che ovviamente bisogna rispettare il proprio ruolo quello di medico, di infermiero, di operatore sanitario e i pazienti e quindi gli ospedali e i luoghi pubblici non possono essere nuovi come qualcuno perché vogliamo sempre questa parcella perché non vogliamo che si confunda